Buongiorno, sono Cristoforo Materossi della Cesari di Cavaillon Veronese, abbiamo il piacere di avervi presso il nostro stand, siamo ormai storicamente presenti al Vinitaly, è una manifestazione a cui ci teniamo ad essere presenti perché è sempre un'occasione di incontro per conoscere un po' il mondo che ci circonda, un po' le tendenze, parlare con i nostri consumatori, parlare con i nostri colleghi che condividono con noi gioie e dolori di questo mestiere e poterci confrontare poi per poter presentare le nostre nuove annate e le novità della nostra produzione per cui quest'anno in particolare presentiamo Corvina in purezza e una nuova grappa prodotta sul nostro crew top di gamma che è il nostro Amarone Bozan. Con piacere ospitiamo chiunque nel nostro stand per poter degustare qualcosa ma così la fiera prosegue anche nella nostra cantina dove è possibile fare visite e anche poter degustare i nostri prodotti per cui l'invito è sempre aperto e l'incontro prosegue anche in altri momenti. Arrivederci!